Giuseppe, come hai trascorso la vigilia di Natale? Da solo, a dormire, e stare sveglio da luna fino alle quattro. Famiglia marcato, civico 19 lungo mare di Bari, indirizzo di casa, ma è un'offesa definirla tale. Un cumulo di macerie, sporcizia, una parvenza di materasso per giaciglio, tutto intorno, residui di amianto e topi. Una discarica a cielo aperto in cui vive, anzi sopravvive da quattro anni, Giuseppe, 51 anni, padre di quattro figli. La moglie abita nel rione Libertà, in un appartamento di 16 metri quadri, sotto sfratto. Lui deve arrangiarsi qui, dove tra l'altro subisce i continui furti. L'ultima volta che ha visto le istituzioni risale a gennaio scorso. In campagna elettorale promesse qualche bustone di spesa e la proposta di un alloggio nel rione Tamburi a Taranto. Se devo morire di amianto, dice, preferisco morire a Bari. Da allora il silenzio. Che cosa ti promisero allora? Una velocizzazione nella sistemazione abitativa e familiare. Dopodiché? Deserto. Oltre a piccoli lavoretti in qualche cantiere, gli dà una mano Don Angio, della chiesa San Sabino. Un mese fa il sindaco De Caro aveva promesso di risolvere il suo dramma prima di Natale. A lui rinnova l'appello. Se c'è la possibilità di un qualsiasi lavoro, come guardiano, come ha detto alle polizie civili e industriali, sono tutti lavori che io ho fatto. Senza lavoro non puoi pagare la casa, non puoi fare la spesa, non puoi fare... cioè senza lavoro sei povero. Punto. Ci congeda, lo attende la mensa della Caritas per il pranzo di Natale.